E' accaduto che appunto io ho chiesto al sindaco che cosa ne pensasse, visto che non aveva fatto comunicazione in consiglio l'altra volta e lui, devo dire, ha riconosciuto che la consigliera Faltone ha sbagliato e ha fatto un errore grave. La maggioranza se ne voleva andare, se ne voleva andare così cercando di darci smacco e lasciandoci soli ad ascoltare. Sarà che non sono tanto bravi, io non lo so, solo non si sono resi conto di toccare la maggioranza per garantire il numero legale. Sono usciti anche i nostri consiglieri e a quel punto dovevano fare due cose, o sentire lo spada oppure mandare a monte il consiglio e non se la sono sentita ovviamente, quindi mi sono stati a sentire e con disappunto loro, ma è un problema loro che non accettano il confronto e non accettano le litiche. Come commenta questa scelta? Ripeto, volevano fare un atto di arroganza, non li è riuscito perché non conoscono nemmeno il regolamento del consiglio comunale. Per noi non era una cosa che si potesse trattare appunto in seno al consiglio comunale e quindi per questo abbiamo deciso di dare un segnale di questo tipo. Secondo voi dove doveva essere discussa la questione? No, no, secondo noi non se ne doveva discutere proprio perché appunto fin troppo se ne era discusso sui giornali, sulla stampa e quindi questa questione è stata fin troppo all'attenzione dell'opinione pubblica. Avete scelto poi di rientrare in aula e portare avanti la seduta del consiglio? Certamente perché naturalmente i lavori del consiglio devono andare avanti, c'erano delibere, c'erano interrogazioni, c'erano mozioni e quindi è giusto che i lavori del consiglio vadano avanti però un segnale andava dato.